vediamo che cosa c'è che non va in questa verifica allora clicco sulla tua verifica poi vado a vedere quante domande hai inserito modifica quiz ne hai inserita una sola per questo in anteprima ne vedi una sola allora bisogna fare aggiungi dal deposito domande e poi metterle tutte ora vediamo qual è quella che hai già aggiunto così la tolgo beh dopo vedrò aggiunge al quiz le domande selezionate ok ora ecco qui che ci sono tutte ok e quindi se i punteggi vanno bene salvi ora andiamo a vedere la verifica in anteprima anteprima avvia il tentativo ed ecco qui che si vedono tutte quante ok si scorre ecco si scorre così attraverso queste domande qui ok ok ecco attraverso ecco spira ecco spira eccco in ecco fbagliare ecco spira